GIMBA NETWORK Un gioco un po' vecchiotto uscito nel 2007 ed è un'esclusiva a Xbox 360 Sviluppato da Namco Bandai, S-Combat 6 non è l'ultimo capitolo della serie Come sappiamo tutti è uscito anche Hustle Horizon Ma perché allora commentare un gioco vecchio e non l'ultimo episodio della serie? Lo vedremo più avanti Intanto comincio col presentarvi il gameplay Magari molti di voi non sono fan di questa serie e non capiscono quello che vi sto mostrando Il gameplay che vedete è tratto da una missione della campagna Più precisamente la dodicesima, giocata a difficoltà esperto Come spero abbiate capito S-Combat è un gioco di aerei O definito da alcuni simulatore di volo Che appunto mette il giocatore nei panni di un pilota Che deve guidare diversi tipi di aeromobili da guerra A seconda della missione che deve portare a termine Il gioco è formato da una componente in singolo Caratterizzato da una trama e da diversi livelli Ed è una componente multigiocatore Che vede il pilota immerso in vere battaglie aeree Divise in diverse modalità di gioco S-Combat per me è stata una serie videoludica epica sotto ogni aspetto Ma la cosa che caratterizzava il gioco era la difficoltà Che il giocatore incontrava nella campagna in singolo Infatti portare a termine una missione voleva dire Perderci anche un'ora e mezza o anche di più E la vera sfida era finire il gioco in tutte le difficoltà Per poi sbloccare ogni aereo, ogni mimetica ed ogni arma speciale Insomma, un gioco che richiedeva un minimo di skill Per vincere bisogna conoscere a fondo le prestazioni dell'aereo Le armi che puoi equipaggiare Il tipo e il numero di nemici che dobbiamo affrontare in ogni missione Ma soprattutto bisogna saper pilotare questi maledetti caccia Nelle difficoltà più semplici riusciremo sempre a cavarcela Insomma, definire lo simulatore mi sembra un po' una stupidata Perché ricevere 6 o 7 missili sul proprio velivolo E continuare allegramente la missione Non mi sembra molto realistico Stessa storia per le difficoltà estreme come Super Asso Nella realtà i jet da guerra non precipitano per un colpo di mitragliatrice Secondo me la giusta definizione per questo gioco potrebbe essere Simulatore di volo arcade Si avvicino alla realtà ma è comunque un gioco che punta sul divertimento e sull'intrattenimento Quindi il bello di questo gioco è appunto imparare a pilotare diversi tipi di aerei E cercare di portare a termine le missioni a una difficoltà sempre maggiore La soddisfazione successiva ad una vittoria è altissima Siamo riusciti dove altri hanno abbandonato o reciquittato E abbiamo guadagnato un nuovo jet, una nuova mimetica o un nuovo emblema Ma allora qual è il messaggio che vi voglio dare? Beh il 13 ottobre 2011 è uscito Assault Horizon Un nuovo capitolo di una delle mie serie preferite Il risultato per me è stato un gioco molto commerciale Il gioco sarà ancora diviso in una componente singolo ed una multigiocatore Anche se purtroppo la componente competitiva non viene molto utilizzata Quindi il grosso del gioco rimane la campagna Piuttosto breve ma soprattutto semplificata ai massimi velli Piloteremo elicotteri, bombardieri, jetta, C-130 E sermi gunner di un Black Hawk In realtà piloteremo ben poco Spesso le fasi di duello aero saranno automatiche Cioè il velivolo volerà da solo Ma noi saremo costretti solamente a sparare Per esempio su Black Hawk saremo costretti a pigiare solamente un tasto del nostro pad Il risultato quindi è una campagna cinematografica molto simile a una di Call of Duty se vogliamo Un continuo sparare che non richiede molta abilità Un gioco diverso dai precedenti titoli della serie Caratterizzato invece da una campagna in singolo che richiede molta più skill ed allenamento da parte del gamer Il gioco quindi non è brutto Semplicemente non lo ritengo appartenere a questa serie Alla serie S-Combat Questo titolo quindi non punta sulla qualità Ma sulla quantità di pubblico che riesce a catturare Chiunque sarà in grado di pilotare un F-18C Super Hornet come se fosse un triciclo La componente sfida non esiste più Le case sviluppatrici continuano a sfornare titoli di questo tipo Pi belle cinematografici ma anche più semplici Per cercare di attirare un pubblico maggiore E quindi voi che ne pensate? Le case sviluppatrici stanno lavorando abbastanza sodo oppure stanno pensando sulle soldi? Fatemelo sapere Io vi ringrazio per l'attenzione nonostante la stranezza del gameplay Ma insomma il bello di Jimbo è l'incredibile varietà Quindi spero possiate comunque apprezzare questo commentary Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione Vi invito infine a lasciare un mi piace Alla prossima dal vostro buon Rick Ciao a tutti Ciao a tutti